Ciao a tutti, noi siamo Vugen, siamo la community che avvicina gli studenti al mondo dell'innovazione delle startup. Siamo una community sia online che fisica, ovvero siamo presenti in più città italiane come principalmente Roma e Milano. Noi avviciniamo attraverso una serie di attività come eventi, Pitch Day Challenge tra startup e studenti. Facciamo unire questi mondi che sono le startup, le grandi aziende e i prossimi lavoratori del futuro, quindi gli studenti che stanno oggi in università ma si pongono come i prossimi leader del mercato dell'innovazione. Quindi vogliamo assicurare che gli studenti abbiano un approccio molto pratico, oltre a un approccio comunque teorico che hanno nell'università. Siamo qui oggi appunto al Roma Startup Week e Luca ci parlerà di come ci si sente a stare a questo Roma Startup Week. Buon pomeriggio a tutti, sono Luca Carlo Magno, partner di Vugen e responsabile di Vugen Milano. Stiamo svolgendo un'attività molto intensa a livello di eventi, siamo partner fortunatamente di Roma Startup Week, un format che coinvolge startup e corporate alla ricerca della contaminazione, contaminazione tra ecosistemi che dovrebbero parlarsi e che per fortuna in questo evento si stanno parlando. Si respira il futuro, si respira aria voglia di collaborare per costruire un'Italia migliore. Siamo fieri con Vugen di essere partner di questo evento e speriamo in futuro di riuscire a portarvi anche gli studenti che sono il target ideale per queste manifestazioni. Grazie a tutti veramente.